Cinque puledri salvati da morte certa durante l'attività del progetto della banca del colostro equino e questo il risultato più importante quanto ha sottolineato il responsabile del progetto il professor Carlo Cosentino intervenendo al convegno del colostro equino il cavallo murgese a Martina Franca finanziato da una misura della regione Puglia ha portato alla creazione della prima banca del colostro equino dei cavalli murgesi utile per intervenire nelle prime 48 ore in tutti quei casi in cui il puledro non può essere allattato è stato possibile standardizzare il processo di raccolta di conservazione e di somministrazione all'incontro hanno partecipato tra gli altri anche l'assessore regionale dell'agricoltura Donato Ventassuglia e altri esperti del settore presentiamo questo importante progetto della misura 16.2 della programmazione regionale perché abbiamo bisogno di tracciare una linea seria di pianificazione e programmazione a favore del mondo allevatoriale pugliese e non solo perché la collaborazione con le altre regioni con gli altri sistemi non solo di ricerche universitaria ma anche della produzione dell'allevamento consente di migliorare la specie migliorare la qualità e soprattutto organizzare meglio anche la prossima programmazione perché noi abbiamo bisogno di supportare le produzioni di qualità e quindi stare vicino ai nostri produttori ai nostri allevatori